Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità in Toscana, partendo dalla 11 dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnalano rallentamenti tra Alto Pascio e Luca Est in direzione Pisa, rallentamenti ma a causa di lavori anche in Fipilì tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est in direzione Livorno, sulla statale 1 Aurelia a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano in direzione nord, anche sulla statale 3 Bis Tiberina è in vigore uno scambio di carreggiata con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata in uscita in direzione Orte, tra Ghetti la corsa a Toremar diretta da Piombino a Cavo delle 16.05 è stata cancellata per mal tempo e per il momento è tutto muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio!